Signor Blair, lei ha tutte le qualità. Generosità, coraggio, cortesia, sangue freddo, sassofono e follia spericolata. Allora, perché diavolo corre in Russia ogni cinque minuti? Sta acquistando delle proprietà lì? Mi sembra una domanda giusta. Me ne frego se la domanda è giusta o no, ci risponda e basta. Adoro il posto, mi attira molto. È un tale casino. Ce la mettono tutta, nonostante i problemi. Quei poveracci vogliono essere solo come noi. Hanno un cuore immenso. È un'immensa ignoranza. E mantengono sempre la parola. Ah, diande. Raccolgono le ghiande e ci fanno il caffè, lo sapeva? Ecco cosa fanno lì. Signor Blair, noi stiamo comprando un Picasso, capisce? Non le dispiace una metafora ogni tanto, vero? No, affatto. Bene. Ad alcuni non piacciono le mie metafore. Non so perché, ma... Comunque, tutti in questa stanza stanno comprando lo stesso Picasso. È molto raro. Abbastanza raro, ben fatto. Che cazzo, la domanda in fondo è questa. L'ha dipinto Picasso? E lei è l'uomo che ce lo sta vendendo? Non è il mio Picasso, Russell. Non è il mio Picasso. E non dico neanche che sia un Picasso. E per la verità non ve lo sto neanche vendendo. E per concludere, non me ne frega niente se lo comprate o no. E per la verità non velo.